Il Consiglio Comunale di Arredino Buonasera a tutti, ringrazio tutti i consiglieri per avermi dato questa possibilità e voglio ringraziare in particolar modo il mio gruppo davvero che ha voluto far sì che la mia persona fosse investita in questa opportunità. Per cui un augurio importante che mi va al sindaco, al Movimento 5 Stelle che è stato prescerto da voi tutti oggi qui presenti, immagino in Grand Master affinché si avvii un nuovo processo per la città di Avellino che porti a un miglioramento sicuramente della qualità di vita e di tutte le opportunità che possono esserci, soprattutto le generazioni. Da oggi mi sentino realmente garante di questo Consiglio Comunale quindi nel rispetto di ogni singolo Consigliere che merita il corso e chiaramente cercherò nel migliore modo possibile di rappresentarne la Massa della Garazia. Un ringraziamento in particolare va anche al nostro candidato Mello Pizze che ha preso parte di un'attività che ha preso parte di un'attività e anche di un'attività che ha avuto in tutto il periodo precedente purtroppo è stato un po' sottoposto a delle penalizzazioni quindi è di cui probabilmente non ritenerà ne poter esserne partecipe.